Allora abbiamo all'Hot Corner oggi Nicola Nocella che è venuto a Roma a presentare Bar Giuseppe film di Giulio Base molto particolare in cui duetta con Ivano Marescotti devo dire duetti meravigliosi, siete due attori fenomenali Grazie, grazie, cosa posso rispondere a una cosa del genere? Ma tipo raccontandoci cos'è Bar Giuseppe Bar Giuseppe è una storia molto particolare, la storia d'amore di tutte le storie d'amore è quella che insomma prende un minimo di respiro da quella che è stata la storia fra Maria e Giuseppe perché Giuseppe che insomma è sempre citato dai Vangeli fino a che serve e poi però non dice mai una parola e Giulio ha scritto questa storia in cui il reale protagonista di questa storia d'amore è Giuseppe questo uomo che sposa una donna che ha un figlio che non è il suo e soprattutto che non si sa di chi sia in realtà e soprattutto una storia che è una storia d'amore, è una storia di lavoro, è una storia di migrazione e la cosa bella di questo film è che è tanto contemporaneo proprio perché è radicato una cosa successa duemila anni fa e parlo da Ateo senti facciamo un gioco che facciamo sempre qui all'Hot Corner che è il tuo mito, il tuo riferimento e lo sappiamo bene non ho idea, se vuoi te lo dico io e tu mi dici perché eh sì vai perché John Belushi è il tuo riferimento? beh intanto perché guarda lui diceva una cosa che era fondamentale i miei personaggi dicono che si può essere brutti, sporchi e cattivi ed essere protagonisti comunque e soprattutto il pubblico si identifica con i miei personaggi, diceva lui ovviamente lo è perché, vabbè, c'è questa cosa che noi veniamo da un posto molto vicino perché lui aveva origini albanesi io vengo da un posto in provincia di Bari quindi in realtà fra me, fra casa mia e casa sua ci sono 30 km di distanza quindi ci somigliamo anche per quel motivo in realtà lui lo è perché ha quel tipo di fisicità, quel tipo di approccio quel tipo di recitazione che sembra non curato in realtà è curatissimo, è studiato, è tecnico, è pensato perché è americano, è americano di formazione cioè appunto gli attori che si preparano, gli attori che scrivono che è un attore intelligente e perché, perché insomma lui è un mito per molti la prima volta che mi hanno chiamato Belushi è stata la prima volta in cui ci ho fatto caso e da lì e poi perché io non sarò, io ho superato i 34 anni quindi e sei ancora vivo no, è l'unica cosa che mi riuscirà di fare meglio rispetto a quello che ha fatto lui quindi più divento grande, meno gli somiglio mi perdo i capelli, magari ingrasso e poi dimagrisco divento quello che poteva essere lui fisicamente ma non lo so perché Jim, suo fratello, è molto diverso da lui quindi non so se in realtà ci sarebbe stata somiglianza sì, è il mio mito e credo che sia bene che lo diventi per molti anche per quelli che vogliono fare il mio mestiere e allora Nicola Nocella, fratello spirituale di John Belushi Charlotte Corner, grazie Nicola grazie a voi, ciao